Bene ragazzi con il vostro JustRazer E oggi siamo in... Oggi ragazzi Buongiorno inizialmente Allora Oggi vi voglio chiedere un numero di like Cosa che non ho mai fatto raga Non vi ho mai chiesto like E oggi lo vorrei fare Quindi vi chiedo di arrivare ben a 7 like per il prossimo episodio Nel prossimo episodio vi aggiungo... Ecco, ecco Non avete visto quello che voglio andare a fare oggi Vi giuro già che nel prossimo episodio Andremo a costruire finalmente Delle farm per il cibo Perché abbiamo il nether Abbiamo la casa Abbiamo il magazzino Ma non abbiamo il cibo Quindi oggi puntando sul fatto Che andrò a trovare dei semi Che non ho ancora trovato Non ho ancora preso dei semi Puntando su questo fatto Io oggi cercherò di andare a creare In questa zona Che andrà da qua a là a là Quindi saranno questi alberi Che in verità no Non saranno questi Perché volevo farlo da qua A scendere laggiù Che però non saprei come fare Quindi il collegamento sarà fatto Da qua a là Da là ci sarà una botola Che ci porterà lì E uno Due Tre alberi Saranno dedicati interamente Agli ortaggi Quindi Questo è quello che voglio andare a fare oggi Ovviamente Prima di fare gli ortaggi Vi ricordo che ho solamente le patate Una patata tra l'altro Quindi non posso ancora Cibarmi di nulla Quindi ora Anzitutto Chiudiamo casa Prima che entrano degli intrusi Ora quindi scendendo Andiamo verso di là Verso la taiga Che non mi ricordo più dove cacchio sia Tra l'altro Cioè Non vedo più nulla da qua sotto Mi sa che mi conviene Salire un pelo Ah Ok si stiamo andando Dalla parte giusta Oddio C'è un ghepardino Lo voglio Voglio il ghepardo Voglio Oh Amico Ah Ah ragazzi Ah Questo è un'altra Un altro canyon Ok ragazzi Come sapete io Per segnarmi le zone Su questa serie Utilizzo i campfire Perché In questa maniera Posso Come dire Vederli da lontano Ovviamente non mi sono posito la roba Vabbè Mettiamo qui E poi dopo Off camera Lo verrò a modificare Comunque La passi Dovete vedere il portale del nether Eccolo là Eccolo là Il portale del nether Guardate come passa in mezzo al fumo È incredibile Ok Stiamo Stiamo cambiando bioma Stiamo entrando nella taiga Qua ci sono stato già un paio di volte Non in questa zona Ma nella taiga Difatti E ok Ma va raga È un villaggio quello no Sì sì Mi sembra un villaggio Vedete un po' ragazzi eh Questa zona È molto 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 proficua Abbiamo fatto benissimo A sceglierla come Nidificazione Tra i coetati Della nostra casa Per vari Ma tanti motivi Signori miei Mi servirebbe davvero tanto Un po' di cibo Questo doppio letto Non l'ho capito Uh c'è un cartografo Invece andando di qua Cosa troveremo Oh sì Un po' di pane E dei pumpkin seeds Bella Bella Perfetto Oh Anche le bookshelf Spero non mi odieranno Ma io Mi vedo costretto A rubarvi Queste cosucce Perché Queste cosucce qua Costano tanto Ok Di qua si esce Ok Ok Adesso ve lo posso lasciare Non mi interessa più il resto Non mi interessa più di tanto il resto E quelli ce li ho già Noto con dispiacere Che potrebbe Star prescendere la notte Quindi meglio Sbrigarsi Oppure dormire qua Dato che comunque Siamo tutto fuorché lontani da casa Ok Guarda che siamo arrivati di qua Andiamo a visitare anche di qua Tu che cocchi Chi sei? Tu sei un Un altro ladder worker Ah Ok Questi vestiti di armature li prendo Volentieri Molto volentieri Oh oh Questa proprio Ve la prendo E non ve la vedrete mai più E Vi tolgo anche il centro Del villaggio Non tanto per Questi ma per questi Ok Vedendo un po' Quello che abbiamo già visto E quello che non abbiamo ancora visto Questo non l'abbiamo ancora visto Poi Oh si Delle pumpkin E queste Me ne piglio Un po' Dentro ti lascio così Ma qua fuori Ti scavallo Tutte queste cose Scusami ma Costano davvero tanto Cioè Dite Alla mojang Di farle meno Costose A sto punto Guardate un po' qua Però raga Quello che stavo cercando Non l'ho ancora trovato Ovvero Sto cercando Una delle loro piantagioni Io ma A quanto pare Non ce l'hanno No è una piantagione Perfetto Poi mi servirebbe Anche dai miei amichetti Un po' di uova Ok Un bel uovetto Un bel uovo Come vedete Si è il primo che prendiamo Uh Qua c'è uno stone cutter Che prendo E porto a casa Qua c'è anche un bel pot Che vorrei prendere A casa Ma c'è un abbastanza Dall'altra volta Questi Li prendo volentieri Li porto a casa Si Non mi va di Depredare veramente Tutto Questo che cosa voglio Secondo me è un po' Buggato questo villaggio Comunque Ve lo dico Un'altra patata Questa cosa Può farmi molto molto comodo Ragazzi Un'altra patata Può farmi molto comodo Per iniziare Il Piantaggio Ma Purtroppo il villaggio Era Fini a se stesso Ovvero è finito qua E' un vero peccato Perché Mi aspettavo di Molto di più Da questo villaggio Devo mettere Ah qua sotto c'è Qualcos'altro Non mi dire che sono andati A finire qua sotto I divillager No Perché Ok no Però qua c'è una cifra Di ferro E a me Il ferro piace E serve Soprattutto Quindi mi piglierò Un po' di ferro Comunque Ditemi se preferite Video in cui Esploro O video in cui Costruisco Perché come saprete A me piace fare Entrambe due le cose Quindi Basta che me lo diciate voi E io Porto a seconda Di quello che mi dite I video Ok Detto ciò Dopo che ho preso Un bel po' di ferro Che abbiamo appurato Che qua sotto Alla fine Era solamente un bug Del villaggio Possiamo Tornare indietro Da dove siamo venuti Comunque vedete Ci sono delle strutture In mezzo al villaggio Che non hanno senso Oh qua sopra Non siamo ancora andati Sono sicuro di questa cosa O almeno Qua sono sicuro di questa cosa Esatto Qua c'è il cartografo Che Cosa ha il cartografo Per noi Oltre a un bel po' Di pagnotte Vado a dormire Prima che spugnino mob Porca vacca Non c'è letto qua Ragazzi Qua è il vostro Just Razor dal futuro Io mi scuso con voi Se il video È terminato così Probabilmente per voi Anche così male Però Era un video Registrato ai tempi Sono molti video Preregistrati E purtroppo Questo qua È corrotto Da qui in poi Quindi non vedrete Quello che è successo dopo Comunque vi garantisco Non è successo Niente di importante Perché non abbiamo trovato Non abbiamo trovato Assolutamente la piantagione Ma appunto Come vedremo nel prossimo episodio Riusciremo a cavarcela Con queste patate Quindi ragazzi Non vi siete persi niente Alla fine era un video Di esplorazione Un video esplorativo Che doveva essere Un video di copertura Perché i prossimi video Poi inizieranno ad essere Un po' più corposi Un po' più succosi Quindi Io vi chiedo comunque Di lasciare un bel like Di iscrivervi al canale Non perdete la passione Per questa serie Perché so che vi piace Continuate a supportarla Questa settimana Arriva un altro video Un vlog Probabilmente E niente Vi aspetto Venerdì in live E domenica in live Qua è il vostro Just Razor è tutto Vada ragazzi E domenica in live